Oggi siamo al Rione del Drago, nel nostro avvicinamento alla Giosta dell'Orso. Possiamo dire finalmente? Finalmente sì, due anni fermi, ce ne siamo inventati tutti, tutti i dolori per non stare fermi. Quindi abbiamo tenuto bene il parco di Montesecco, perché se no quest'ora non era più praticabile. Abbiamo continuato a fare i nostri lavori, abbiamo mantenuto cavalli per fare la Giosta e ora siamo pronti con i nostri infantini e i nostri cavalli. La squadra, dire forte, è una bugia, perché finché non la vediamo sul campo portano risultati e non si può dire niente. Comunque è bene amalgamata, sia cavaliere che cavalli, e poi vediamo il 25 che viene fuori. Hai due grandi veterani della piazza? Sì, Spinicci e Simone Santini. Senti, te che hai corso e hai vinto questi due anni di fermo, pensi che possano provocare qualche problema dal punto di vista anche tecnico per cavaliere e cavalli? Penso di no, forse qualche cavallo nuovo che poteva essere già arrivato, ma non penso che questi due anni di fermo abbiano provocato chissà che cosa di tecnico su cavalli o cavaliere. È una gara sicuramente impegnativa e molto interessante. A me le corse adrenaliniche in questo modo mi piacciono molto, cioè dove c'è la sfida, lo scontro, la velocità, sono gare che mi piacciono veramente tanto. Cos'è che viene da fuori Pistoia? È una giostra conosciuta, comunque potrebbe avere una promozione maggiore? Sicuro, io l'avevo già sentita. Io sono venuto qua perché Luca Veneri, che qui ne ha corse e vinte tante, mi ha detto di venire e molto volentieri ho accettato questo invito. Mi fa piacere di essere qui a Contrada del Drago e comunque Pistoia è una gara che nel panorama delle quintane gioste italiane viene menzionata spesso. Quindi bocca al lupo. Crepi, grazie.